Oh no! Caperi! Gli incontri online sono complicati! È troppo difficile capire le donne! Quella è un app omicidio. Cosa credevi che significasse il peperoncino? Piccante! Prima non mi dice cosa prova per me e ora non mi parla neanche! Vaffanculo! Rispondete! Rispondete! È così ingiusti quanto vorrei che si ammorbidisse. Ogni desiderio è un ordine! Ah noi abbiamo finito. Ma dov'è? Aspita! Guarda cosa è successo! Cosa? I nostri desideri sono stati esauditi. La signorina Scimmia è stata trasformata in... La sedia c'è sempre stata! No Darwin... La sedia c'è sempre stata! E quanto vorrei che si ammorbidisse! E che ricevesse una ridimensionata! Lo si! Non so il colore dei dinosauri o come volano gli aerei. Dov'è la signorina Scimmia? È diventata un cuscino per il collo. Lo si! Sai schifo! Parole romantiche! Io ti amo! No! Direi! Grazie miei cari! Si figuri! Dov'è la signorina Scimmia? Voglio trovare un senso a questa vita Anche se questa vita... Eccola! Ma vaffanculo! Lucy! Io... Io... Io ti amo! Oh, Nigel! L'amore ha spezzato l'incantesimo! Eccola!